Ci puoi spiegare il progetto di Discovering Columbus? Ci troviamo in cima alla piazza chiamata Columbus Circle, vicino a Central Park, dove 120 anni fa costruirono una colonna alta 70 piedi, circa 20 metri, e sopra vi installarono una statua di Cristoforo Colombo. Ora vi ho costruito intorno un salotto di 9 metri per 8, in modo tale che il pubblico possa venire quassù, come se fosse al sesto piano di un edificio, a godere la vista della statua di Colombo in un contesto molto confortevole, seduti in poltrona o su un divano, come se si fosse a casa propria.